Incidente stradale all'alba di sabato sulla statale 626 sul tratto di collegamento alla 19. Da una prima ricostruzione dell'episodio, un minibus da 25 posti della Sommatinese è precipitato da un viadotto per cause in corso d'accertamento. In seguito alle grave ferite riportate è morto l'autista Giuseppe Bugea, 49 anni. Non c'erano altre persone a bordo del mezzo finito in una scarpata. Sul posto sono giunti prontamente i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale per i rilevi di rito. Giuseppe Bugea, 49 anni, lascia la moglie e due figlie che su Facebook hanno scritto parole toccanti per ricordarlo. La morte di Giuseppe Bugea ha destato commozione in città soprattutto fra quanti lo conoscevano ed apprezzavano per la bontà e la disponibilità. Bugea viene ricordato come un gran lavoratore, dedito alla famiglia. I funerali sono stati celebrati stamani a San Pio X.